alla scuola della vergine maria apprendiamo e imitiamo che la nostra vita cristiana è un progetto serio e occorre essere pronti a mettere tutto in gioco anche la propria vita la propria esistenza i propri beni così come ha fatto la vergine maria fioretto chiederò a gesù il distacco da tutto ciò che turba la pace interiore giaculatoria vergine maria regina della pace prega per noi grazie a tutti